Vanno all'asta in maggio da Sotheby's i gioielli dell'attrice Gina Lollobrigida, collane, bracciali, orecchini e diamanti firmati bulgari da lei indossati nei momenti clou della sua lunga carriera cinematografica. Adesso mi dedico alla scultura. Uno scultore non ha bisogno di gioielli, fa sapere l'attrice 86enne, sex symbol degli anni 50 e 60, rivale storica di Sofia Loren e oggi ambasciatrice per la FAO. All'incanto 22 pezzi per un valore di diversi milioni di euro che andranno a sovvenzionare la ricerca sulle cellule staminali. Prima della vendita a Ginevra il 14 maggio, la collezione della Lollo, nonna dal 94, sarà esposta a Londra, New York e Roma.